L'iniziativa è molto interessante perché per la prima volta, almeno in Sicilia, si tenta la via della Corte dei diritti dell'uomo per quanto riguarda il tema del precariato pubblico siciliano. Un tema molto complesso che nasce da lontano, l'ultima branca di precariato nasce addirittura nel 1988 con l'ex articolo 23 e ancora oggi purtroppo questi ex articolisti che allora avevano 20 anni, oggi ne hanno 50 e qualcuno di più, si trovano ancora praticamente nel mondo del precariato dopo aver avuto praticamente una reiterazione di contratti a termine che è durata oltre il limite massimo imposta appunto dalla legislazione italiana, i famosi 36 mesi, ma anche per una questione di prevenzione di abusi imposta ovviamente dalla direttiva 70 del 90 dell'Unione Europea. Cosa è successo in questi anni? È successo che la legislazione regionale, ma anche di concerto con le normative statali, hanno cercato appunto di prorogare, quasi se ne die con le proroghe, questi rapporti di lavoro a termine. Non tenendo in debita considerazione quello che è un limite massimo, perché è chiaro che il precariato deve essere una questione relativa a un periodo transitorio, non deve riguardare delle attività ordinari. Noi abbiamo presentato un reclamo al Comitato Sociale Europeo, che è la sede a Strasburgo, che è un organo della CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale si occuperà della situazione specifica del precariato siciliano e emetterà alla fine una decisione che non è una decisione immediatamente gogente, però ha una sua importanza notevole, perché la decisione del Comitato Europeo mette in moto tutta una serie di meccanismi nei confronti della Commissione Europea, che è tenuta a verificare effettivamente se quello che il Comitato Europeo ha deciso contrasta con l'Unione Europea, e quindi l'eventualità di aprire una procedura di infrazione, comporta una trasmissione degli atti, dei documenti e della decisione al Parlamento Europeo, dove peraltro sul precariato siciliano, ma anche sul precariato della sanità, a novembre verrà tenuta una sessione plenaria. Noi abbiamo partecipato a una sessione che c'è stata nel marzo scorso, che era preparatoria di questa riunione plenaria, proprio per discutere su questa questione del precariato. C'è stato più in particolare un grosso procedimento, di cui poi parlerà l'Avvocato De Michele, che è stato discusso il 13 luglio, proprio su un input del Tribunale di Trapani, che riguarda la misura di risarcimento del danno, e che potrebbe essere una soluzione per quanto riguarda il precariato siciliano, insieme a tutti gli altri procedimenti a cui ho fatto cenno, e poi ce ne sono anche altri in via di preparazione. Possibili soluzioni concrete a questo problema infinito, potremmo dire? L'abbiamo esaminata in Corte di Giustizia il 13 luglio a Lussemburgo, dove è stata sottoposta dal Tribunale di Trapani l'ennesima questione pregiudiziale sul precariato pubblico, in questo caso siciliano, superamento dei 36 mesi di una lavoratrice, alle dipendenze del Comune di Valderice. Per la verità le prospettive erano di due tipi, una di tipo risarcitorio, la Cassazione a Sezioni Unite aveva stabilito il diritto del lavoratore che aveva subito un abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato, una indennità risarcitoria da 2,5 a 12 mensita. Il Tribunale di Trapani, attraverso l'Avvocatura, ha contestato l'adeguatezza di questa sanzione che non restituiva la dignità al lavoratore rispetto all'abuso reiteratamente provocato e quindi ha domandato alla Corte di Giustizia se questa misura, individuata per la verità inventata dalle Sezioni Unite, perché non ha una base normativa vera e propria, ma è una vera e propria creazione di natura di tipo giurisprudenziale, se questa misura era una misura equivalente, adeguata e soprattutto se rispondeva ai canoni di equivalenza già fissati dalla Corte di Giustizia. Abbiamo già avuto una risposta interlocutore da parte della Commissione europea che ha ritenuto che questa misura non è assolutamente adeguata. La Commissione europea si è rifatta alla vecchia soluzione ideata dal Tribunale di Genova dopo la sentenza Marrò su Sardino della Corte di Giustizia, cioè 5 mensilità di risarcimento danno minimo, più 15 mensilità come indennità sostitutiva della reintegrazione. Per la verità noi speriamo che si vada a qualcosa di ancora più forte, cioè addirittura la rimozione del divieto di conversione nel pubblico impiego.